Grande vittoria per la prima giornata di A2 per gli atleti della società Tennis Bassano in trasferta in Lombardia contro il Tennis Club Lecco, che per dieci anni è stato imbattibile, sino a domenica, travolto dai bassanesi. 4-2 risultato con tre singoli e un doppio, che hanno visto trionfare i tennisti di Biaccolfa-Gheron. Domenica prossima, il 10 ottobre, l'STB se la vedrà nei campi di Terra Rossa di casa contro Lecce e per loro fondamentale sarà la presenza del pubblico e allora forza giallorossi!